Ciao a tutti, sono Andrea Maderna e sono qui per inaugurare la playlist ufficiale di Outcast per la Game Developers Conference 2017. Cominciamo con un po' di anticipo, è lunedì, si parte venerdì e la fila è la prossima settimana, ma insomma abbiamo anche già iniziato a pubblicare articoli con la bloggata di Stefano su quello che si aspetta, su quello che gli piace della GDC e sicuramente arriveranno anche altre cose, quindi perché non cominciare a popolare di video il nostro canale? video che come l'anno scorso vi racconteranno il viaggio, le stronzate, le bevute, quello che combineremo, vi mostreremo la fiera, vi racconteremo i giochi visti e provati, vi racconteremo le conferenze, insomma tutto quanto, tutto buttato dentro, per lo più come al solito, come l'anno scorso, come capita con i video realizzati col telefono, anche qua pur essendo ancora a casa potevo usare la videocamera, ho voluto entrare subito in ritmo partito usando il telefono, in questo caso appoggiato al tavolo, quindi magari si sente anche, si vede, si sente anche abbastanza bene, ma ci saranno tutti i video tenendoli in mano, come dei pirla, mentre camminiamo per San Francisco, ma insomma è così che funziona la copertura video di Outcast, in realtà non escludo che ci siano anche video realizzati meglio, ne stiamo chiacchierando con videocamera, montaggio, gameplay e cose del genere, ma insomma vedremo se faremo anche cose del genere, aspettatevi comunque il livello qualitativo un po' raffazzonato che c'era anche l'anno scorso, però produrremo molto di più rispetto all'anno scorso in generale, rispetto agli anni scorsi, perché? Beh, innanzitutto perché siamo più gente dedicata alla cosa, oltre a me ci sarà Stefano Tallarico, Lorenzo Antonelli, Fabio Bortolotti e Antonio Bellotta, che si è appena giunto alla cumba degli outcazzari e subito si è infilato nella GDC, in più si unisce alla spedizione Alex Camilleri, che magari conoscete perché avete visto, ascoltato in qualche podcast e video, avete letto la sua recensione di The Last Guardian, lui viene in quanto sviluppatore, però lo tireremo dentro le nostre cose, e addirittura poi nel corso della settimana verrà anche a stare con noi all'endelle piane, che magari conoscete per i podcast sulla localizzazione, anche lui viene per i fatti suoi, però insomma magari lo tiriamo un po' dentro nelle nostre stronzate, quindi una copertura video più ricca, più corposa, e in più cercheremo di produrre anche più articoli del solito, promettiamo perlomeno un articolo al giorno da leggere nel corso della settimana della GDC e poi altre cose dopo il ritorno, e come sempre una volta tornati, almeno una settimana dopo, realizzeremo, registreremo insomma il podcast, l'outcast reportage dedicato alla fiera, quindi una GDC più corposa del solito su Outcast, ma non meno gesticolante del solito. Tutto questo avviene un po' perché ci abbiamo voglia, un po' perché, lo dico per trasparenza, abbiamo deciso di utilizzare una piccola parte del fondo che abbiamo accumulato, grazie alle vostre donazioni su Patreon, su Paypal, grazie ai vostri acquisti su Amazon tramite i link da Outcast.it, abbiamo usato una parte per pagare una parte dell'appartamento, non avevamo sicuramente abbastanza soldi per pagare tutto il viaggio, men che meno 6 persone, e volevamo comunque conservare un po' di soldi da parte, però abbiamo deciso di utilizzarne un pochino per snellire una parte dei costi e motivarci a darvi di più come copertura dell'evento per ripagarvi, insomma, di questa mano che ci avete dato. Quindi c'è anche questo. Direi che è tutto, tutti i nostri video saranno in questa playlist che trovate comunque sul sito, il sito cambierà un pochino faccia, nulla di clamoroso, insomma, alcune modifiche alla home page, altri piccoli dettagli che dovrebbero andare online a partire da sabato. E niente, seguiteci, mi raccomando, durante questa GDC che come al solito è il momento dell'anno a cui noi di Outcast teniamo di più e cercheremo di trasmettervi come al solito e più del solito perché ci piace tanto cosa c'è che ci piace tanto. È tutto, ciao, fate i bravi. E adesso premo stop.